Ragazzi, domani su Social Face 2, in onda su Sky 1 delle 19.25, ci sarò io e questa è una piccola anteprima della puntata di domani. Un bacione. E' un incubo, è un incubo per me. Sono stata lievemente aiutata, insomma, ho dato il mio joystick ad anima e... Sascha, ma stai giocando? Sono l'asso, numero uno, sì! E' Leonora che è bravissima! Bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Ho vinto! Tu mi vuole di scottetut!